È una città capace di essere lievito e collante di un sistema. È solo uno dei volti dell'attreviso guidata dal sindaco Giovanni Manildo, descritta nel Constitutivo 2016 di interventi, progetti e realizzazioni portati a compimento dall'intera giunta di Casugana. Una città sempre più vocata al turismo, con le mostre, i concerti e i festival, ma anche come pollo attrattivo, che stando ai dati negli ultimi mesi, dà tutti i segnali economicamente positivi nel commercio e nell'accoglienza di alberghi e ristoranti. È ancora, secondo il sindaco, più sicura, più ecologica e più responsabile, anche se sottolinea c'è ancora molto da fare. Rimorsi di impianti? Sicuramente ci sono delle cose che possono essere fatte meglio in tempi più veloci, rimorsi in particolare su cose che non possono essere migliorate non ce ne sono. C'è però la voglia, la determinazione di lavorare concretamente e con forza per, sui tempi dei lavori delle piazze, ricreare subito un avviamento. Così per piazzetta battuti, col cantiere che chiuderà a gennaio, per lasciare subito spazio a mostre permanenti e all'esarcimento delle attività che hanno sofferto finora. Prima promessa per il 2017? Continuare in quest'opera di creazione di una città accogliente, una città che vede i bisogni delle persone e cerca di accogliere, quindi una politica sociale che sarà molto attenta a questi. E sull'accoglienza è inevitabile il tema migranti, con l'affolamento della Serena. Noi stiamo cercando di governarlo al meglio, facendo quello che un comune responsabile deve fare. Mi piacerebbe per il 2017 riuscire a creare una rete di comuni sempre più forte che riesca a diluire l'accoglienza nel territorio, in modo che ci sia un giusto rapporto tra i richiedenti asilo e gli interessi delle comunità che accolgono. E a chi, anche all'interno della maggioranza, accusa Cassugana di scarso dialogo con il governo comunale, Manildo risponde. Il mio impegno è il fatto di garantire spazi di condivisione, di decisione e di dialogo con tutti.